Musica Blitz questa mattina di un gruppo di operatori sociosanitari presso l'ospedale Cardarelli di Napoli per chiedere delucidazioni sulle intenzioni del direttore generale Rocco Granata di richiedere o meno l'assunzione degli OSS che si potrebbe avere grazie a un fondo regionale praticamente a costo zero. Sarebbe un sospiro di sollievo per tutti gli OSS già formati che in attesa ormai già da anni vedono inesorabilmente trascorrere il tempo utile per quest'altro bando senza che le strutture sanitarie pubbliche presentino regolare richiesta. Siamo venuti qui a Cardarelli perché qua sta succedendo qualcosa che ha del curioso e dell'inespiegabile. Di fronte a un Cardarelli che sta vedendo proprio scomparire i propri operatori OSS che sono gli aiuti infermieri di cui c'è un estremo bisogno e di fronte a un avviso regionale fatto dalla regione per formare e far lavorare nelle strutture gli OSS, le strutture pubbliche non stanno facendo richiesta di partecipare a questi progetti e di conseguenza stanno rinunciando ad avere OSS a lavorare pagati dall'assessorato al lavoro al loro interno. È qualcosa di strano ed inspiegabile che forse bisognerebbe poi rivolgersi ad altre autorità per capire il perché di questa cosa. Granata si è reso disponibile diciamo per la nostra... Loro comunque volevano aderire all'adesione diciamo degli operatori socio-sanitari perché a loro servono comunque questa figura negli ospedali e c'è la volontà però mi ha anche riferito che magari non si trovano in sintonia con la regione inerente a questo programma perché la regione campana comunque e loro anche se comunque hanno dato l'input positivo in questa situazione però la regione ancora deve rispondere in moto con i criteri comunque dovuti in questa situazione.